Al reparto di radioterapia oncologica dell'ospedale di Pescara c'è un problema che riguarda le apparecchiature, un solo acceleratore, liste di attese che si allungano, ci sono dei problemi, voi chiedete un nuovo acceleratore proprio nel reparto di radioterapia? Sì, chiediamo la sostituzione del vecchio acceleratore lineare obsoleto che ha oltre 13 anni di servizio e che si sfasce un giorno sì, un giorno no e quindi lascia a piedi gli utenti. C'è un nuovo acceleratore lineare che è stato acquistato grazie a noi ma rimane ancora in funzione il vecchio acceleratore lineare quindi bisognerebbe sostituirlo immediatamente. I fondi ci sono, sono stati stanziati 6,2 milioni di euro dal Ministero quindi Regione Abruzzo non ha più scuse, deve immediatamente procedere alla sostituzione. C'è un altro problema è quello della brachiterapia donata dai canadesi all'ospedale di Pescara che serve per curare i tumori ginecologici, è stata lasciata in abbandono per diversi mesi, adesso si sta pensando di installarla udite udite nella stanza dove insiste il vecchio acceleratore lineare e questa è una scelta completamente scelerata perché se funziona la brachiterapia non può funzionare l'acceleratore. Noi chiediamo di installarla sì immediatamente ma in un bunker attiguo che esiste, vuoto, inutilizzato e non si spiega perché lo vogliono per forza installare dove insiste l'acceleratore lineare. Poi serve personale, almeno 4 tecnici da impiegare nel reparto per far funzionare almeno le due apparecchiature di radioterapia 12 ore al giorno. Oggi purtroppo una funziona a 10 ore e un'altra a 12 ore al giorno, questo conautalmente aumentando le liste d'attesa e voi potete ben immaginare che un giorno può fare la differenza per un malato oncologico. Noi dobbiamo fare tutto il possibile, la regione Abruzzo deve fare tutto il possibile per risolvere questo problema. Siamo con la signora Cristina Rauso, una paziente del reparto di radioterapia oncologica dell'ospedale di Pescara. Lei ha un po' provato sulla sua pelle questi disagi che ci sono nel reparto per via di questo macchinario piuttosto obsoleto. Io ho iniziato la terapia il 21 di agosto, il mio ciclo doveva essere di 6 settimane ma è diventato di 9 settimane per via di questo macchinario che era fermo. Capitava che funzionava un giorno a settimana, per due giorni era fermo, poi rifunzionava per tre giorni e per altri due giorni era fermo. E quindi questo mi ha recato un disagio grande, oltre che economico venendo da Vezzano, direi soprattutto psicologico. Perché tu sai che in 6 settimane, in un mese e mezzo finisci la terapia e invece poi diventano due mesi o possono diventare due mesi e qualche giorno. E quindi diventa psicologicamente stressante per te che subisci la cura e per i tuoi familiari che stanno accanto a te.